Bambini che giocano in un cortile di Parco dei Pini, sullo sfondo il castello Monforte. Accade a Campobasso dove è stata realizzata una iniziativa per celebrare la giornata mondiale dell'alimentazione. L'evento, organizzato dal centro Domus Nature, ha coinvolto tutto lo staff di clown terapia del dottor Fulvio Fusco, esperto in educazione alimentare, che attraverso il gioco ha dispensato preziosi consigli per l'alimentazione a grandi e piccini. È una giornata speciale proprio perché è la giornata mondiale dell'alimentazione e devo ringraziare il dottor Mastro Donato perché ci ha ospitato in questo evento e abbiamo incluso tutte e due le cose. C'è la clown terapia proprio perché andiamo a fare un'educazione alimentare basata sostanzialmente sui bambini e quindi chiaramente per arrivare poi ai grandi tramite i nonni e tramite appunto i genitori. Noi tutti abbiamo soffrito di clown terapia per quanto riguarda l'alimentazione. La vecchia nonna che prendeva la forchetta e faceva vola 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 l'aeroplanino, quella è una forma ludica proprio per indurre il bambino a mangiare, ma era un modo per far sì che il bambino andasse appunto a ingerire determinati alimenti. Ma non si vive di solo pane, anche la sfera emotiva dei sentimenti, degli stimoli positivi provenienti dal mondo esterno, ha bisogno del suo cibo, il cibo dell'anima, ha spiegato il dottor Franco Mastro Donato presente all'evento. Secondo i principi della biointegrata, l'aspetto strutturale, quindi movimento, postura, l'aspetto funzionale, biochimico, il cibo dell'aria e il cibo della terra, quello che appunto entra in bocca, poi il cibo della psiche e il cibo della mente. A queste tre forme di cibo si associa un'altra ancora più importante che noi molto spesso trascuriamo o non lo riteniamo un cibo, ed è il cibo dell'anima, il cibo dello spirito, fondamentale per la nostra esistenza. Basterebbe guardarsi intorno per mangiare bene e stare meglio, dal colostro, primo alimento dei mammiferi, su cui proprio in Molise sono stati sviluppati studi e produzioni particolari ai pascoli, alla natura. La biodiversità e la conoscenza come elementi di benessere anche a tavola.